Buonasera ragazzi, ultimamente stavo riflettendo un po' sul mio passato e molte delle cose che ho imparato l'ho fatto sulla mia pelle. Tramite l'esperienza è un po' un processo naturale che tutti quanti noi in un modo o nell'altro facciamo. Facciamo delle cazzate, facciamo degli errori, capiamo da questi errori e poi la prossima volta agiamo in un altro modo, consapevoli dell'esperienza che abbiamo vissuto. Ovviamente questo tipo di conoscenza abbinata a una ricerca, a uno studio, quindi la lettura, all'approfondimento anche di certe tematiche che può essere in ambito psicologico, relazionale, unite queste due conoscenze, quella empirica dettata dall'esperienza e quella dettata dallo studio teorico, ovviamente in questo modo ci formiamo. Abbiamo una consapevolezza e una conoscenza delle relazioni molto più ampia. Ecco perché qui vi voglio parlare molto della parte esperienziale, quindi di 5 errori che ritengo di aver commesso nell'arco della mia vita relazionandomi con le donne. Questo perché i ragazzi più giovani che mi stanno ascoltando possono magari partire avvantaggiati. Non dico che non si trovino anche loro poi a fare delle cazzate perché è impossibile, certe cose ci devi sbattere la testa, ma quantomeno si arriva più preparati. E poi chi invece è un po' più in là con l'età, quindi magari è coetaneo alla mia stessa età, oppure chi ha qualche anno in più, magari queste cose già le sa, ma appunto magari si può trovare d'accordo con me, può trovare interessanti alcune riflessioni. Il primo errore che ho commesso con le donne è quello di focalizzarmi subito su una sola persona. Quindi mi piaceva una ragazza, era interessante, subito tendevo a focalizzare tutte le mie energie in quella conoscenza. Prima ancora di mettere le basi per una vera e propria relazione. mettevo da parte le altre, mettevo da parte anche quelli che erano i miei interessi, sacrificavo anche il mio tempo, le mie priorità per conoscere questa ragazza, per cercare quindi di costruire qualcosa, perché mi sembrava magari la cosa più bella del mondo, perché insomma si costruiva un certo tipo di rapporto che faceva presagire un qualcosa di straordinario, un qualcosa di grande, ma purtroppo, la sappiamo bene, che non sempre è così spesso, può essere anche semplicemente un fuoco di paglia, oppure noi uomini possiamo pensare di star vivendo qualcosa di straordinario, ma magari quella donna dall'altra parte, la ragazza è già abituata a un certo tipo di conversazione, a costruire vari legami, vari flirt con vari uomini, per cui quello che per noi può sembrare speciale, in realtà dall'altra parte non lo è. E poi cosa accade? Accade anche che metterci tutte queste energie, questa attenzione, fa sì che noi siamo molto più suscettibili alle azioni, ai pensieri di questa persona, perché se magari non risponde in tempo andiamo in paranoia, se magari a un certo punto lei sembra cambiare subito, magari ci facciamo qualche domanda, paradossalmente anche quel tipo di attenzione che noi stiamo riservando può in qualche modo far passare l'interesse, perché sembriamo già, come dire, cucinati, belli che cotti, e quindi spesso alcune ragazze tendono anche a perdere interesse, perché non c'è più quel fattore di ambiguità, di sfida, di complicazione, che può rendere quella conoscenza in un certo qual senso più interessante, più sfidante, più curiosa. E quindi quel tipo di attenzione in realtà è anche controproducente, particolare un po' questo tipo di situazione, ma avviene. Quindi ecco, questo è un errore da non fare, invece cosa bisogna fare? Quando si conosce una ragazza che può essere una ragazza interessante, con cui abbiamo un rapporto, con cui ci piace parlare quello che è, prima di tutto non bisogna focalizzarsi del tutto su questa persona, ma mantenersi comunque tutte le altre opzioni, senza chiudere le porte alle altre ragazze che stiamo conoscendo, va benissimo diluire, come dire, le energie, le attenzioni, perché in un certo qual senso le donne sono anche capaci di fiutare il fatto che noi abbiamo più opzioni, che non stiamo lì unicamente per lei, che deve in un certo senso vincere la competizione. Anche noi, dall'altra parte, non siamo estremamente focalizzati su di lei e quindi abbiamo un approccio meno teso, più rilassato, perché siamo meno suscettibili dai suoi cambi di umore, siamo meno soggetti a tutta una serie di escursioni emotive, per cui questo ci fa risultare anche più interessanti, più in controllo di noi stessi e anche il nostro ego, la nostra autostima ne risente positivamente. Questo cosa significa? Non vuol dire che con questa persona non possiamo riservare un rapporto esclusivo, ma un rapporto esclusivo deve essere necessariamente, a mio avviso, riservato solo nel momento in cui con questa persona abbiamo già costruito una dimensione più intima. Quindi cosa significa? che ci sei andato a letto, che ci hai fatto sesso, punto. Una volta che già hai, come dire, costruito qualcosa, cioè già sei a un livello più avanzato della conoscenza, allora a quel punto puoi eventualmente scegliere di riservare a lei un'attenzione più particolare e magari escludere dall'equazione altre ragazze. Questo è importante. Molti purtroppo non riescono a fare questo step. Essi focalizzano troppo, troppo su una donna, ancor prima di costruirci qualcosa. E poi cosa c'è? L'errore di idealizzare questa conoscenza. Spesso noi proiettiamo su una persona che ci piace le nostre aspettative. Pensiamo che quella persona possa in qualche modo rispecchiare i nostri desideri. E poi cosa facciamo? Tendiamo anche magari a pensare che questa persona in un certo qual senso ci può guarire, può colmare il nostro vuoto interiore. In quel caso dobbiamo capire che c'è altro da risolvere e non riguarda tanto il ricercare un'altra persona, ma probabilmente ci troviamo ecco in uno stato emotivo interiore che dobbiamo risolvere con noi stessi. E in quel caso anche la solitudine può essere molto più efficace. Passiamo al secondo errore che ho fatto con le donne. Puntare tutto sulla relazione. Ci sono coppie che vivono in funzione del partner, uomini che vivono in funzione della propria donna e quindi mettono da parte quelle che sono le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni per cercare sempre di andare incontro ai desideri del partner. E questo può essere un gravissimo errore. Vi porto una mia esperienza. In passato, quando frequentavo il primo anno di università, avevo vent'anni, ero in una relazione molto complicata, una relazione che possiamo definire tossica. A quel punto mi trovai che dovevo fare un esame e litigai con la mia ragazza di allora. Io decisi di non fare l'esame il giorno dopo, di non studiare il giorno prima, poi non ero nel tipo di mindset giusto e sacrificai quell'esame. Il giorno prima invece andai tipo da lei per risolvere questa situazione. Questo è ovviamente un comportamento sbagliato, ma è una testimonianza che io vi porto per farvi capire che essenzialmente le cazzate le possiamo fare tutti e da queste possiamo anche capire che stiamo facendo degli errori. Ecco, questo è un errore da non fare perché nel momento in cui noi sacrifichiamo le nostre ambizioni, le nostre aspirazioni, puntiamo tutto su una persona, poi essenzialmente può anche non far più parte della nostra vita, stiamo facendo un grosso errore. Soprattutto quando siamo molto giovani e non abbiamo ancora davanti a noi un futuro ben delineato e stiamo lottando per cercare di realizzarci, per cercare quindi di arrivare ai nostri obiettivi, quindi mai puntare tutto su una relazione. Il partner deve essere un valore aggiunto, qualcuno che ci affianca durante le nostre battaglie, durante la nostra vita, durante il nostro percorso verso la realizzazione. Deve essere una persona in grado anche di sostenerci, comprendere le nostre ambizioni. Deve essere una persona che se anche non arriva a capire completamente le nostre ambizioni, quantomeno deve avere un atteggiamento positivo di ascolto e di umiltà nel cercare di dire ok, non riesco ancora a capire il tuo progetto, quello che vuoi fare, ma sono qui che ascolto, cerco di mettermi in connessione con te. Quindi valutate bene il tipo di donna che avete a fianco. Questo veramente può fare la differenza. Poi, ecco, anche se incontrate ragazze tossiche, quello che è, fa parte della vita, si va avanti, però è bene partire avvantaggiati e saperle queste cose. Il terzo errore che ho fatto, Dio, è fidanzarsi per solitudine. Questo è veramente un errore madornale, perché spesso cosa succede? Che non siamo pronti per una relazione, però temiamo troppo il vivere senza una persona a fianco. Ed è strano che anche ragazzi molto giovani provino questo tipo di paura. Paradossalmente uomini che hanno raggiunto una certa maturità e sono single, più riescono a sostenere la solitudine. Vuoi anche per le esperienze accumulate. Ma molti ragazzi ancora immaturi dal punto di vista emotivo tendono molto anche a provare questo tipo di sensazione. Non tutti, ma ce n'è una buona parte. Tra questi c'ero anche io in passato che provando un forte vuoto dal punto di vista affettivo ho intrapreso alcune relazioni senza effettivamente essere coinvolto, ma più che altro perché c'era questo vuoto da colmare. Questo ovviamente ti porta a una sensazione di insoddisfazione, di infelicità, perché quella persona non corrisponde alla persona che tu vorresti a fianco. E oltre a fare del male a te stesso, fai del male anche a un'altra persona che probabilmente è coinvolta nella relazione, magari ci crede in quella relazione. Quindi è qualcosa che in realtà non fa bene, ti preclude anche dalla possibilità di conoscere altre persone più interessanti o avere altre esperienze anche di tipo sessuale con altre ragazze. Però passa del tempo, poi non hai il coraggio di lasciare la tua ragazza perché in fondo lei ti vuole bene e trascini questa cosa avanti fino a quando poi esplode e ti rendi conto che è passato del tempo e hai, in un certo senso, investito in una relazione che effettivamente non ti appagava già dall'inizio, si può dire. Quarto punto, credere alle parole delle donne. Allora uomini, l'errore che uno può fare è pensare che le donne dicano sempre la verità o quello che pensano e non capire che la comunicazione femminile spesso segue percorsi diversi, contorti, alternativi, hanno un modo di comunicare diverso alle donne e ci sono donne dotate di una certa sensibilità che sono sincere con i loro sentimenti, ma anche queste spesso comunicano in modo particolare e quindi bisogna in un certo senso sapersi connettere con quella dimensione femminile. Ma ce ne sono anche molte altre ragazze contraddittorie, incoerenti, ipocrite, manipolatrici, di tutto e di più. Quindi dobbiamo capire bene che prima di credere effettivamente alle parole di una donna dobbiamo in un certo senso guardare ai fatti, guardare al tipo di persona. La nostra fiducia, in un certo senso, va guadagnata. Ciò non significa che partiamo già sul piede di guerra, ma ovviamente diamo una sorta di concessione per dire ok, ti concedo questa possibilità di dimostrarmi la persona che sei. Poi effettivamente posso io valutare se, insomma, ci sono i presupposti per credere a quello che stai dicendo perché magari me lo hai dimostrato, perché effettivamente sei una persona che vale. Spesso ci possiamo trovare in situazioni in cui le parole di una donna non corrispondono alla verità. Ce ne sono tantissime di queste situazioni. Quindi dobbiamo stare attenti a valutare i fatti concreti, le dimostrazioni, il modo in cui una donna agisce se questo modo di fare corrisponde effettivamente con le parole che poi lei sostiene. Cioè se c'è coerenza tra parole è fatti. Quindi una donna che dice di amarti lo deve dimostrare in qualche modo. Se c'è dimostrazione tramite i fatti, queste parole effettivamente sono validate da lezioni. Questo è il discorso. Quinto e ultimo punto per questo episodio è cercare di risolvere l'impossibile. Spesso ci troviamo in relazioni disfunzionali che non ci portano da nessuna parte. Fatte di tira e molla, di situazioni complicate dove ci sono delle sensazioni conflittuali, relazioni ambivalenti dove si mescolano odio e amore, dove ci sono all'interno delle dinamiche tossiche, marce corrotte fino al midollo. Però allo stesso tempo non possiamo più fare a meno di questa relazione. Dall'altra parte quindi si crea una situazione dove poi si accumulano rancori, risentimenti, e quindi poi ci si lascia, ci si rimette insieme questo continuo, insomma, un caos. Io non dico che uno non debba vivere questo tipo di relazioni perché spesso può accadere anche che queste relazioni in realtà poi lasciano un'eredità. È quella di capire effettivamente tante piccole sfumature di una relazione. Sono relazioni spesso che non sono sostenibili sul lungo termine, ma sono una parentesi nella propria vita che possono poi effettivamente lasciare un segno sia in positivo che in negativo. E anche quando lascia un segno in negativo comunque c'è, si crea quel bagaglio di esperienze che ci consente poi di affrontare nuove relazioni, ok? Avere una certa esperienza. Però quello che io ritengo sbagliato sotto ogni punto di vista è cercare a tutti i costi di portare avanti questo tipo di relazione. A un certo punto è necessario mettere la parola fine. Uno può dire è quando è, quando arrivo a questo momento. Questo non ve lo posso dire, però a un certo punto si crea una sorta di strappo, di lacerazione così grande in una relazione tossica di questo tipo che lì dovete avere il coraggio di prendere la mannaia e tagliare del tutto la relazione. Anche a costo di distruggere i stessi sentimenti che provate, anche a costo di stare male, di soffrire, ok? È necessario mandare al patibolo la propria relazione. Anche se dall'altra parte c'è quella persona che poi ci prega, no dai ti prego, riproviamoci, eccetera eccetera, la ci si mette in ginocchio, no, cazzo, lì si taglia del tutto e si va avanti come un treno. A quel punto è necessario farlo. Mandare al patibolo la propria relazione. Ci sono veramente situazioni di questo tipo, lo so che è molto difficile farlo, lo so che non è un gioco da ragazzi, però ci sono relazioni che non possono essere trascinate troppo a lungo, che devono essere semplicemente delle parentesi. Ragazzi, io spero che questi cinque punti vi abbiano portato a fare delle riflessioni. Se avete delle esperienze da condividere, scrivetele nei commenti, facciamo delle considerazioni, confrontiamoci insieme, a me fa molto piacere. Io vi ricordo che ci sono i canali social per seguire il progetto Essere Uomo, poi di fondamentale importanza, è iscriversi qui su YouTube se non l'avete fatto, perché questo mi dà modo di sostenere questo progetto. Uno dei modi migliori per farlo. Poi vi ricordo che c'è il gruppo Telegram di Essere Uomo, composto unicamente da uomini. Per entrarvi potete contattarmi a me personalmente su Telegram o al moderatore, vi lascio i link per contattare ed entrare nel gruppo. Poi c'è la possibilità di contattarmi per richiedere una consulenza se state vivendo una situazione particolare, volete confrontarvi, volete raccontarmi un'esperienza nello specifico. Io vi lascio anche la pagina del counseling dove potete approfondire un po' come funziona. Io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.